Adesso penso a far bene qua, cerco di ritagliarmi il mio spazio qua, poi se farò bene il Parma mi richiamerà, tanto meglio. Sono qua, nel senso che mi vuole la Latina o qualsiasi altra squadra, i giornali ne hanno dette tante, ma io so solo di Lanciano e sono venuto qua. Ma io avevo voglia di giocare, di farmi vedere, so che Lanciano è una buonissima piazza sia per i giovani che come gruppo, ho sentito i miei compagni, ad esempio già che conosco come Monachello, Pinato e niente, sono venuto qua per cercare di ritagliarmi il mio spazio. Nasco come punta centrale, ma poi sarà il mister a dirmi cosa vorrà da me, cercherò di soddisfarlo. Se dobbiamo prendere in considerazione tutti i giocatori, sicuramente Ibrahimovic, quei giocatori di stazza che mi assomigliano, ma non gli leggo neanche le scarpe. Un gruppo di ragazzi mi hanno accolto bene, tutti sorridenti, quindi va bene, sono contento. Bella impressione, rispetta sempre me, devo fare sempre bene qua, con costanza e poi se arriveranno le convocazioni in Under 21 o Under 19 che sia, la prenderò come si deve.